Buon giovedì a sera a tutti da Marcus, ben ritrovati. Questa è la seconda serata di estrazione avvenuta regolarmente nelle loro sedi estrazionali. Allora, questa è l'estrazione, il file 8.dat l'ho aggiornato e questa, essendo la seconda estrazione, che vedrete che non mi sbaglio quando dico una cosa, difficilmente mi sbaglio, questa è la formula 369, questa è una formula che non ha dato a nessuno, è tipo somma x2, che valuta i calcoli definiti su ruota stessa e sua gemella. Allora, questo è il riquadro del 13 febbraio, non ancora del 16, guardate, se io vado e faccio vedere, questo è il 16, quindi questo è di nuovo il quadro estrazionale nelle loro sedi, guardate, vanno fuori ruota, guardate, guardate il secondo colpo stasera, torno su, eccoli qua, guardate dove vanno a finire, adesso io mi sposto al 16 di febbraio, guardate bene, 16 di febbraio, io parto stasera di nuovo, prima estrazione, quindi basamento nuovo, come vi dicevo, basamento secondario nuovo, quindi in teoria dovremmo arrivare a ruota stavolta, vediamo se mi sbaglio, eh? Oh ma guarda un po', ma guarda un po', c'è già un ambo su Napoli, da questa previsione nuova, al primo colpo, guardate, cominciano ad andare su ruota, ragazzi, difficilmente mi sbaglio, se io ho dei parametri miei di calcolo, e questi parametri sfasano, me ne accorgo subito, estrazione su tutte le ruote, cioè sulle ruote estrazionali, il 16, questa sera primo colpo, guardate, subito su ruota, adesso vedrete, ora su somma x2 non ce n'era, se noi andiamo a vedere somma x2, vi faccio vedere subito, somma x2, non c'era il calcolo, quindi ve l'avrei fatto vedere, se c'era qualcosa, guardate, se io spunto qua, stasera cominciano a formarsi le estrazioni, ma al 16, guardate, c'è solo questa su ruota, che fra l'altro, guardate, combinazione arriva anche su ruota 71, eh? Quindi vedete che quello che vi dico non è sbagliato, eh? Guardate, subito, anche su ruota unica, primo colpo 71, questo invece è il quadro vecchio, e questo è il quadro nuovo, cioè dal 16 al 18. Stasera invece si formano altre nuove previsioni, guardate, guardate, quindi già da qua in poi si potrebbe già fare una previsione, ma io aspetto ancora qualche colpo, guardate qua, la formula 369, la mia formula segreta, di nuovo risponde come somma x2. Ci risentiamo alle prossime news, ragazzi, buona serata, il file autodat, come ripeto è stato aggiornato. Un abbraccio a tutti, Marcus, e alla prossima, ok?